Le aziende hanno bisogno di idee per rinnovarsi a Treviglio, la same storica marca di trattori ha lanciato un concorso di idee fra i suoi dipendenti. Io ho proposto un sistema integrato col CAD per poter parare in modo tutto uguale, senza possibilità di errore, razionalizzando al massimo e riducendo i tempi morti. E' uno dei primi tra i 37 vincitori dell'inusuale concorso per una banca delle idee per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro e del prodotto stesso. Ed ancora più inusuale è che a bandire un concorso tra i dipendenti sia una fabbrica storica della Bergamasca, 1600 dipendenti, leader nella produzione di trattori agricoli che per di più è diventata una multinazionale dopo aver acquisito aziende tedesche altrettanto importanti. In tutto un'ottantina di idee ritenute valide di cui 50 già realizzate in diversi reparti della fabbrica. Oggi noi puntiamo molto che le persone cominciano a pensare come poter anche partecipare attivamente a migliorare lo stesso posto di lavoro perché da qui nasce poi la possibilità di dare miglior idea al nostro prodotto e alla fine un miglior prodotto al nostro cliente finale. Quanto di queste idee avviene dall'Italia e quanto dalla Germania? Questa è un'iniziativa che è nata prevalentemente in Italia un anno fa. Vi dico che oggi l'esperienza fatta dopo un anno sicuramente sarà esportata sia in Germania che anche in Polonia con altre nostre filiali per cui direi tutte le nostre aziende del gruppo. Da Treviglio partono trattori che contribuiscono per il 28% ad un mercato che in Italia assorbe 30.000 mezzi all'anno.